Un libro che conduce ad osservare Vallefoglia attraverso gli occhi di chi ci ha camminato e vissuto, da oggi sono disponibili nelle biblioteche del territorio comunale le 1500 copie di Vallefoglia Paesaggio con figure, curato da Cristina Ortolani con le immagini di Filippo Biagianti. Con l'orgoglio di chi ama il proprio territorio, Ortolani, commissionata dal sindaco Palmiero Lucchielli, ripercorre la storia di personaggi illustri del calibro di Giovanni Branca, nato a Sant'Angelo e Lizzola, della famiglia Perticari, di Terenzio Mamiani, Giovanni Santi, padre del divin pittore Raffaello Sanzio, Gerola Mogenga, Francesco Paciotti, personaggi che hanno lasciato un segno nel cuore di Vallefoglia dove sono nati e a volte anche tornati. Questi sono sette personaggi, davvero personaggi illustri, dei quali abbiamo cercato di rintracciare le tracce proprio del passaggio a Vallefoglia, alcuni ci sono nati, alcuni qui invece risiedevano, alcuni sono discendenti di chi aveva avuto territori di Vallefoglia, castelli di Vallefoglia in feudo, in particolare in Mamiani e Paciotti, ma sono tutti personaggi che a questo territorio sono stati molto legati e abbiamo cercato di raccontare in questo libro questo loro legame anche attraverso proprio le loro parole andandole a cercare nelle loro lettere, nelle loro biografie, in qualche caso in qualche diario anche. Ogni scatto, precisamente studiato e curato nel dettaglio assieme ai testi, raccontano la storia di una città, quella di Vallefoglia, terzo comune della provincia di Pesaro Urbino con i suoi oltre 15.000 abitanti, che ha conquistato negli anni una dimensione sempre più centrale non solo per i suoi paesaggi ed opere pubbliche, ma anche per le sue attività produttive. Nella copertina è raffigurato Sant'Angelo in Lizzola e le 104 pagine che compongono il libro ripercorrono tutte le città e le frazioni del territorio di Vallefoglia. Un itinerario attraverso l'arte e la cultura che l'hanno caratterizzato. Domani, sabato 18 dicembre, il libro verrà presentato all'hotel Blu Arena. Raccontare il passato per proiettare la città futura, costruire la città futura e raccontiamo in questa pubblicazione, in sintesi, con bellissime fotografie, le attività economiche, la storia, i castelli, i personaggi, la proiezione futura, la proiezione economica perché questa è la città industriale, però vorremmo anche far diventare un pezzo del sistema economico e produttivo, il turismo, l'ambiente, il paesaggio, la cultura. Un territorio che ha bisogno di farsi conoscere, di farsi conoscere dall'esterno, ma anche dai propri concittadini, un territorio che ha vissuto migrazioni e quindi anche i nostri concittadini non conoscono magari tutti gli angoli più nascosti e le nostre bellezze. È un progetto cui l'amministrazione ci ha tenuto, siamo contenti di essere arrivati all'obiettivo finale con la presentazione di sabato prossimo qui al Blu Arena.